Pesaro parte dal suo cuore per allestire uno dei primi cantieri del 2022. La riqualificazione di Piazza del Popolo, già approvata lo scorso novembre, è pronta a partire dalla seconda metà di gennaio, con un'attenzione focalizzata su un selciato e una pavimentazione vetuste ammalorate da sottoporre a restyling. Un lavoro concertato con soprintendenza archeologica Belle Arti e Paesaggio delle Marche e con Marche Multiservizi che ha portato in giunta comunale l'approvazione di uno stanziamento di 600 mila euro per un'opera che sarà svolta in diversi step per non sovraccaricare di cantieri l'area cittadina centrale per la passeggiata e il commercio. Enzo Belloni, il cui assessorato in questo 2022 lascia la delega a nuove opere e manutenzioni a Riccardo Pozzi, illustra un'opera da lui seguita nella gestazione iniziale. Dal punto di vista estetico e architettonico non cambierà nulla, il materiale da usare, il disegno della piazza dovrà rimanere quello e abbiamo anche coinvolto Marche Multiservizi rispetto alla situazione dei sottoservizi perché ci sono tratti dove loro avevano il progetto di intervenire e questa è l'occasione per prendere due piccioni con una fava, nel senso sistemiamo la piazza e sistemiamo anche i sottoservizi della piazza dove succede che ogni tanto si verificano delle piccole rotture. La piazza del popolo è diventata, ed è sempre il cuore di una città la piazza, la piazza del popolo in particolare negli ultimi anni ha avuto un sacco di eventi e continueranno ad esserci, quindi ci piaceva pensare che era arrivata il momento giusto per riqualificarla, magari mantenendo lo stesso disegno, però modificando le panchine e quello che la rende in qualche modo caratteristica e che caratterizzerà la città.